Nella prima domenica del 2021 Papa Francesco al termine del suo tradizionale Angelus ha munito sull'emergenza coronavirus dicendo mi ha addolorato tanto leggere sui giornali di persone che durante il lockdown hanno pensato solo a fare le vacanze senza pensare ai problemi economici di tanti che la pandemia ha buttato a terra e che rimanevano a casa o ai tanti ammalati. Le parole del pontefice nel dettaglio Francesco ha detto ho letto sui giornali una cosa che mi ha rattristato abbastanza in un paese non ricordo quale per sfuggire dal lockdown e fare le vacanze bene sono usciti quel pomeriggio più di 40 aerei ma quella gente che è gente buona non ha pensato a coloro che rimanevano a casa ai problemi economici di tanta gente che il lockdown ha buttato a terra agli ammalati soltanto a fare le vacanze fare il proprio piacere questo mi ha addolorato tanto. La precisazione di Bergoglio il papa poi ha aggiunto è vero c'è la tentazione di prendersi cura soltanto dei propri interessi continua a fare la guerra per esempio concentrarsi solo sul profilo economico vivere egoisticamente cioè di soddisfare il proprio piacere. Infine Francesco mi ha esortato tutti a prendersi cura un po' del prossimo in questo nuovo 2021